È Sabrina Fai la quota rosa eletta come membro del consiglio dell'Automobile Club di Sondrio. La professionista e sportiva, illustre e personalità del nostro territorio, porterà una ventata di nuove idee. Classe 1971, Sabrina vanta una grande formazione tecnica da oltre tre illustri e competente professionista nel settore della logistica. Ha scalato con determinazione e professionalità i ruoli apicali di primarie aziende del settore, operando oggi nel mercato nazionale e non solo. Unisce all'importante curriculum professionale anche quello sportivo. La sua carriera agonistica inizia nel 2000 con il fratello e dal 2006 corre con Marco Gianesini, in categorie di rilievo nazionale ed oltre. Ad oggi ha partecipato a circa 60 gare a livello nazionale, una partecipazione a un rally mondiale Monza 2021 e otto vittorie assolute. Nel suo palmarès conta una ventina di partecipazioni al Coppa Valtellina, con diversi piazzamenti assoluti, tra cui il secondo posto nell'edizione 2022. Desiderò apportare idee e concretezza, ha dichiarato Sabrina Fai, in merito al suo nuovo ruolo all'interno del consiglio a Cisondrio. Vorrei dare una mano, mi piacerebbe coinvolgere il più possibile i giovani che sono il nostro futuro. Pense inoltre che dialogo e confronto siano aspetti fondamentali su cui puntare in un ambiente lavorativo. La quota rosa di Sabrina Fai commenta il consiglio, la prima nella storia dell'Aci Sondrio sarà di fondante impulso per lo sviluppo delle attività dell'ente. A lei auguriamo buon lavoro.